...discosto in fase di allineamento con la macchina che prende velocità, Ragneri e Rosa dell'Est alle prese, Ragneri difende la posizione, Rosa dell'Est che è rapida a ripiegare in seconda posizione, poi ribelle griffo, Ragneri alle badie all'esterno, in terza viaggia Rubens Mask. Prima curva con Ragneri che la affronta con una ventina di metri di vantaggio, Rosa dell'Est capeggia il gruppo degli inseguitori, 14 scarso i primi 200 metri, all'esterno di Rosa è Rubens Mask, poi ribelle griffo, Ragneri alle badie, gli altri lontani, Rubens scavalca Rosa dell'Est e guadagna la scia di Ragneri, Rosa però prova a rientrare lungo la corda, c'è un po' di bisticcio alla fine. Ragneri leader, Rubens di rincalzo, Rosa in terza posizione, poi ribelle griffo, Ragneri alle badie, 46 e mezzo per i primi 600 metri, Ragneri battistrada anche lungo l'arco della seconda curva e al passaggio di metà gara coperta dal leader in 1 e 3. Rubens di rincalzo, poi Rosa con all'arco ribelle, ancora Ragneri alle badie, un po' in difficoltà, più indietro a runway, bag, si va verso il passaggio al primo chilometro con Ragneri battistrada, Rubens di rincalzo, ribelle, lo scatto a centro pista di Ragneri, di dentro Rosa dell'Est, gli altri discosti, il chilometro in 1.19.5, Ragneri in vantaggio, poi Rubens, ribelle a largo, Ragneri in terza, torna ad allungare Ragneri con una frazione in 15.6 per la retta opposta alle tribune. La curva conclusiva, Ragneri in vantaggio che va via in piena spinta, Rubens alle prese con ribelle, quindi Rania, Rosa, ingresso della retta di arrivo, Ragneri lo affronta in chiara evidenza, Rubens che insegue, poi ribelle, Rania che sbaglia, Ragneri che allunga ulteriormente. Ragneri si avvicina nel finale, Rubens e Musk, ma Ragneri controlla il terzo posto per i belle griffe, il quarto per Rosa dell'Est, Ragneri e Francesco Fronzoni, il training di Andrea Baveresi, i colori dell'azienda agricola Lavalle, il tempo al chilometro nell'ordine dell'1.18.5, e la quota al totalizzatore molto popolare, 1.45.